Vi auguro una dolce giornata con questo messaggio, lista della gratitudine. Contare le tue fortune ed esprimere gratitudine per ciò che già possiedi ti aiuta a restare centrato nel cuore, invece di fissarti sulle paure nella tua mente. Per chi o cosa sei grato ora? Concentrati sulla gratitudine e scoprirai l'incredibile generosità dell'universo. Hai estratto questa carta perché gli angeli desiderano indirizzarti alla gratitudine. È possibile che tu sia scivolato nell'abitudine di preoccuparti o di lamentarti nella tua situazione economica. Energie negative che attraggono solo ulteriori problemi. Uno dei metodi più veloci ed efficaci per essere a una vibrazione più alta è quella di concentrarti su ciò che hai invece di pensare a ciò che ti manca. Prenditi un momento per stilare un elenco di ogni cosa e persona per cui sei grato. Puoi scrivere, dire o pensare ciascun elemento che annoti. L'ideale è fare una lista delle gratitudine una o più volte al giorno. Presto ti renderai conto di quanto sei fortunato e i tuoi pensieri positivi attrarranno altro di cui essere grato. Questo è il messaggio della buona giornata. Grazie.